E' l'Inter la prima finalista di Coppa Italia, i nerazzurri schiantano il Milan nel derby di ritorno 3-0 al Meazza dopo lo 0-0 dell'andata, un successo che può dare ulteriore morale e forza alla squadra di Simoninzaghi anche in chiave corsa a scudetto. Nel primo tempo Lautaro e i compagni sono a lungo padroni del campo, il toro argentino è il grande protagonista con una splendida doppietta. Al quarto gran gol al volo, al quarantesimo il raddoppio con delizioso tocco sotto dopo aver sorpreso la difesa rossonera sul filo fuori gioco. Prima vittoria interista alla quarta stracittadina stagionale considerando anche le due sfide di Serie A. Al di là della prima mezz'ora del secondo tempo di marca Milan, i nerazzurri sono stati nel complesso superiori meritando la vittoria. In chiave lotta a scudetto più di un campanello d'allarme per la compagine di Stefano Pioli. Il Milan da un po' di tempo fa fatica a trovare la via della rete. In questo derby si è anche scoperto troppo fragile in difesa.